buongiorno a tutte e a tutti oggi si chiude la serie stiva diciamo primaverile stiva insomma di questa rassegna giardini dintorni promossa dal centro patos dell'università per stagneri di siena sono con me sono con noi e laura tezza e marco maovaz due studiosi entrambi perugini che ci introdurranno alla scoperta delle proprietà appartenute a una famiglia anch'essa perugina quella cioè dei della cornia che è stata titolare dalla metà del cinquecento alla metà del secolo successivo del marchesato poi educato di castiglione del lago veniamo alla prima oratrice che è laura tezza che conosco ormai da moltissimi anni e che come me una storica dell'arte e insegna infatti storia dell'arte moderna all'università di perugia laura è una studiosa che ha un diciamo ventaglio di interessi veramente molto ampio perché si è occupata di pittura di scultura di storia del collezionismo prevalentemente declinando questi temi in relazione all'italia centrale con una attenzione particolare per la sua regione cioè per il territorio umbro e su una forbice cronologica ampia che va dal quattrocento al seicento laura e come potrete immaginare ha una bibliografia molto ricca di saggi e di contributi insomma di volumi e nell'ambito della quale ricordo qualche suo scritto rammento e per esempio i suoi contributi forniti al perugino sarà di questi giorni ma questo magari ce lo confermerà la stessa laura una nuova mostra e che sta per aprirsi e su perugino a san pietro e però insomma i suoi scritti sono anche stati dedicati ad altri maestri come per esempio fiorenzo di lorenzo bartolomeo caporali luca signorelli orazio alfani e poi ci sono i casi di raffaello rammento in questo senso il suo catalogo della sua mostra raffaello giovane a città di castello del 2021 e i contributi su giorgio vasari e molto importanti anche quelli dedicati a caravaggio e caravaggio e il frutto della virtù il mondo a frutto e l'accademia degli insensati un testo questo del 2013 questo argomento mi porta tra l'altro a ricordare anche quelli che sono stati alcuni suoi interessi specifici che nel tempo ha coltivato ripetutamente e quindi per esempio le relazioni tra gli artisti e l'accademia argomento che ha toccato facendo un accondo sul caso di federico zuccari e l'accademia perugina degli insensati in uno scritto del 2017 ma anche poi l'argomento su cui è tornata per il libro delle imprese dell'accademia degli insensati ritratti figurati e parlanti del 2018 tra le sue curiosità le sue attenzioni c'è stata anche quella però per la natura morta a cui se ne sono aggiunte molte molte altre come per esempio quelle che in qualche modo sono state declinate e dedicate al territorio da cui sono derivati per esempio i suoi studi su alcune importanti guide perugine su alcune collezioni museali che hanno il loro spazio il loro luogo nella regione ma anche interventi dedicati al paesaggio per esempio tra i poggi e l'acqua e l'acqua transimeno che trova annucci maturanzio e gli uomini famosi nella perugia dei baglioni un testo questo del 2008 e veniamo al secondo oratore marco maovazze che ha un profilo diverso e è specialista di scienze agrarie ed è responsabile dell'orto botanico del centro di ateneo per i musei scientifici dell'università degli studi di perugia si è occupato nel tempo di restauro dei giardini storici e a partire dal suo dottorato in botanica applicata svolgendo anche attività di ricerca nell'ambito della storia della scienza anche lui una bibliografia nutrita ha curato per esempio con altri autori il volume scienza e scienziati a perugia le collezioni scientifiche dell'università degli studi di perugia del 2008 al quale poi ha anche contribuito con alcuni suoi affondi con alcuni suoi studi legati all'agraria ha studiato domenico bruschi e l'orto botanico di perugia attraverso l'autografoteca orti botanici mutine mutinensis di giovanni de brignoli di brunoff e poi ehm si occupate si dedicato a botanical collecting in perugia in the 19th century the gardens of the bourbon of sorbello oggi eh Laura Tezza e Marco Mauvaz ci parleranno eh dei della cornea e la cultura del giardino nel cinquecento quindi lascio a questo punto la parola a Laura eh grazie Alessandra per la approfondita presentazione e questa come appunto mh hai avuto modo di un po' di ehm raccontare dei miei interessi ehm eh in merito a soprattutto alla natura morta e eh all'Accademia degli Insensati che è data ormai da un lungo periodo eh in quanto eh mi sono accorta proprio eh entrando in contatto con un personaggio notevole della Perugia della fine del cinquecento un vero e proprio eh motore culturale mh della della vita eh del del mondo della cultura di Perugia cioè Cesare Crispolti che eh era un prelato della cattedrale e eh nonché collezionista nonché e anche ehm eh principe dell'Accademia degli Insensati ehm che era un'Accademia letteraria e dell'Accademia musicale degli Unisoni eh questa Accademia degli Insensati ehm effettivamente aveva attirato l'attenzione già dagli anni sessanta ehm da parte di un studioso molto curioso ed eclettico Luigi Salerno che si era accorto a che ehm molte delle prime fascinosissime opere di Caravaggio eh quelle profane quelle così della maniera chiara ehm eh ruotavano intorno a componimenti poetici letterari che eh rimandavano tutte a lui disse un'oscura Accademia di provincia periferica l'Accademia degli Insensati di Perugia e allora approfondendo un po' le tematiche e i personaggi eh legati a questa Accademia ehm sono venuta a a conoscenza di legami eh estremamente interessanti tra eh la cultura ehm dei fiori, la cultura del giardino eh naturalistica molto importante eh attribuita dai vari membri di questa Accademia e anche dal suo eh appunto promotore eh più importante Cesare Crispolti e eh il mondo eh diciamo degli studi e ma anche eh la società in genere ehm aristocratica e patronale di Perugia. Eh ecco eh la cultura eh queste sono le opere di Caravaggio che eh eh erano state ehm individuate come eh sempre eh frutto di queste relazioni eh poetiche ehm eh letterarie con alcuni poeti eh Marino, Murtola, Lauri, ruotanti intorno all'Accademia degli Insensati eh che facevano capo appunto alla prima maniera di Caravaggio. Eh e e e Crispolti eh che io ho studiato in quanto persona tra l'altro appunto ehm di riferimento eh nella storia di studi di fine cinquecento autore di una guida storico-artistica di fine cinquecento ehm aveva eh soprattutto era ehm tra l'altro un notevole collezionista che possedeva in casa una redazione eh delle tante eh diciamo repliche, copie eh di un soggetto importante di Caravaggio, il mondo a frutto, importante perché eh è il primo quadro documentato a Caravaggio. Era appunto segnalato nel 1608 in casa a Crispolti e come vedete si tratta di un giovane ragazzo intento a tagliare, a sbucciare un agrume con di fronte eh dei frutti sul sul desco, sul bancone. Eh questa è diciamo l'insegna dell'Accademia degli Insensati eh ma come vedete eh in realtà questa cultura dei fiori e dei frutti è un tema fortemente eh ritornante mh proprio distintivo anche della prima fase di Caravaggio in cui eh si trovano questi giovani i ragazzi alle prese con o strumenti musicali o colti in momenti eh appunto come eh quello di un improvviso dolore, un'improvvisa sorpresa mh con ehm di fronte a a a un imprevisto eh ma eh che eh in cui sia fiori che frutti hanno un ruolo fondamentale. Basta vedere anche qual è l'impresa forse del massimo eh intellettuale che fa capo all'Accademia degli Insensati cioè Marco Antonio Bonciario ehm è un un albero di eh di cedro eh mentre che spunta l'un l'altro matura eh allusivo naturalmente ad un principio eh come dire eh di traslazione metaforica applicato al campo botanico ma in realtà un messaggio pedagogico in quanto era mh un un grande intellettuale che si è dedicato proprio all'insegnamento eh al seminario e all'Accademia degli Insensati eh diciamo eh estendendo una rete importantissima epistolare eh con i maggiori studiosi del tempo da Marco Antonio Mureto che è stato il suo come dire precettore romano allo stesso giusto lipsio ad ericio puteano cioè principali esponenti della cultura stoica che facevano del giardino un un'allegoria fondamentale e della propria condotta di vita. Ecco si eh si pensava che eh la rete patronale dell'Accademia eh insensati fosse legata a una sfilza nutrita di di cardinali che eh ruotavano intorno a a la stessa Accademia eh Maffeo Barberini, Cincio e Silvestro Aldo Brandini, Acquaviva, Conti ehm Carlo Emanuele Pio, Bonifacio Bevilacqua ma in realtà si è visto eh andando procedendo con gli studi che in realtà eh quelli che eh questi cardinali erano solo i depositari diciamo di queste relazioni in realtà il centro di ehm difesa quasi di di promozione di patronato della stessa Accademia eh doveva far capo ai della Cornia. Come ha anticipato Alessandra i della Cornia eh furono una famiglia infeudata praticamente attraverso una imprevista eh eh relazione eh parentale di Giacoma Ciocchi del Monte la sorella del cardinal del monte diventato papa e a questo punto i suoi figli eh cardinale Fulvio il condottiero Ascanio I che diventò celebre con la battaglia di Lepanto e i suoi nipoti avuti da eh l'altra sorella laurea eh furono infeudati in questo eh marchesato poi ducato ehm in un territorio compreso tra il Perugino eh e la Toscana diciamo a est del lago o est e ovest del lago Trasimeno eh che conobbe un un notevole sviluppo soprattutto culturale facendo capo ai palazzi dinastici di Città della Pieve e soprattutto di Castiglion del Lago eh Castiglion del Lago che chi di voi eh ha un po' di ehm consuetudine con eh il territorio Umbro gode di una posizione ehm veramente spettacolare eh con un ambiente eh con una specie di paradiso ambientale in quanto è proteso eh sul lago Trasimeno ehm questo palazzo ha avuto uno sviluppo eh diciamo quasi simbiotico non solo con il lago vedremo ma con i suoi giardini perché i giardini nella famiglia di Lacornia ebbero un ruolo fondamentale sia eh nelle nelle committenze del cardinal Fulvio che vedremo appunto la villa del colle del cardinale che da lui prende il nome eh di Galeazzo Alessi alla appunto al palazzo dinastico del marchese Ascanio promosso perlomeno dal dal marchese Ascanio i giardini hanno un ruolo fondamentale tanto quanto il complesso architettonico e mh di questa ehm di questo universo eh naturalistico dinastico e naturalistico insieme il cantore ufficiale fu un uno dei principali pittori eh scusate uno dei principali poeti ehm eh carnascialeschi i della penisola e cioè Cesare Caporali e Cesare Caporali eh che si lega anche questo in in un modo correlato diciamo a Caravaggio perché il famoso passo in cui eh Giulio Mancini il eh l'estensore delle considerazioni sulla pittura che ci regala un quadro inedito molto importante dei primi anni di Caravaggio e ci dice che Caravaggio eh dal eh prelato marchigiano Pandolfo Pucci se la passava male perché lo teneva a stecchetto con delle eh cene migragnose eh dandogli un insalato per antipasto pasto e post pasto e come dice il caporale per companatico e per stecco. È una citazione precisa proprio di un poema eh di Cesare Caporali la corte che eh lo stesso poeta eh Caporali dedicò alla corte molto diciamo austera molto severa di Fulvio della Cornia a Roma eh tenuta presso il cardinal Salviati di cui lui stesso era diciamo servitore eh quindi c'è una relazione diretta anche tra il mondo caravaggesco e eh appunto il mondo della Cornia. Questa è la villa del collo del cardinale di Galeazzo Alessi di cui tra l'altro Marco Mauvaz è un grande esperto che ha studiato moltissimo i suoi giardini e eh qui eh Fulvio della Cordia eh radunava i suoi ospiti eh e lo stesso Caporali ci tramanda questa cerimonia rituale della innaffiatura dei giardini a cui gli ospiti si prestavano si dovevano prestare eh lui con la suo sarcasmo e dicevo in questo inedito ruolo di poeta eh di Vignarolo ehm e eh e lo stesso anche nel eh nel palazzo di Castiglione del Lago di cui purtroppo eh abbiamo solo delle restituzioni diciamo molto abbiamo solo delle porzioni molto parziali ecco qui il palazzo eh e eh con circondato dalle mura e ma quello che colpisce appunto questa posizione assolutamente amena straordinaria che colpiva tutti i visitatori e che fece dei ehm dei giardini un luogo speciale eh di cui lo stesso Marco Mauvaz ha studiato e ne ha sottolineato anche un particolare valore eh inedito non ancora eh sufficientemente eh apprezzato. ehm nel grande eh palazzo dinastico affrescato da Niccolò Circiniani da 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 eh Giovanni Antonio Pandolfi per eh glorificare e diciamo eh il ruolo di Ascanio della Cornia il il fondatore della casata eh diciamo la decorazione pittorica eh si integra quasi si sposa in maniera assolutamente complementare con quella dei suoi giardini eh di cui abbiamo solo delle testimonianze appunto eh letterarie di Cesare Caporali e qualche descrizione settecentesca che si estendevano lungo tutto il promontorio che vi ho fatto vedere. Eh è Scipione Tolomei il segretario del eh del soprattutto del Marchese della Cornia l'erede Ascanio II della Cornia l'erede di Ascanio I primo che tra la fine del Cinquecento e i primi del Seicento eh promuove in maniera molto forte eh la l'organizzazione dei dei giardini su cui si affacciava la stessa sede dell'Accademia degli Insensati che aveva una sede perugina ma ce l'aveva anche castiglionese appunto nei sotterranei del palazzo attualmente dove è collocata la biblioteca comunale che anche questa ha un affaccio diretto sul giardino e una vista magnifica sul lago. Eh il giardino era connotato dalle solite essenze quasi canoniche no? Anche e soprattutto visto la 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 santificazione diciamo medicia che è quella degli agrumi eh ma anche con eh i tre mezzi appunto di lauree, di mortelle e eh con delle vere proprie architetture vegetali. Le architetture vegetali che sono cantate sempre da Cesare Caporali che ehm Marino eh nella sua galleria lo 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 presenta in maniera scansonata come gazzattiere da Ganippe la 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 ninfa addetta diciamo della una ninfa delle sorgenti. Eh eh e se se i poeti c'era diciamo nel mito se il poeta si abbeverava a questo tipo di sorgente aveva la possibilità eh diciamo poteva essere convertito in in poeta eh a meno in poeta diciamo eh burlesco e infatti eh Caporali orchestra questa sua narrazione poetica su un doppio registro eh che è quella che è quella ehm diciamo dinastica di celebrazione consueta attraverso le eh eh le architetture vegetali che dovevano narrare le le gesta straordinarie di ehm Ascanio primo eh per esempio la grande aiuola dedicata alla battaglia di Azio che naturalmente era un traslato per la battaglia di Lepanto in cui ehm quasi eh Ascanio diventò eh diciamo acquistò la sua celebrità ma anche quella che lo portò alla morte eh e eh nello stesso tempo questo doppio registro viene usato anche perché ehm la vena satirica burlesca eh di ehm di Caporali ehm è usata per descrivere in per esempio nel suo poemetto gli orti di Mecenate ehm questa eh queste eh avventure del eh di questo giardiniere eh di questo giardiniere ehm ehm giovane che è un pittore giardiniere eh e che esplora eh questo suo fantastico eh giardino di Mecenate ehm e il suo custode sull'Esquilino in realtà è appunto una eh trasposizione del eh del giardino di Castiglion del Lago eh ma eh come dice il Caporale il lo il ehm lo spirito bernesco le continue allusioni anche eh eh piccanti diciamo eh che era una tipica ehm tradizione ehm culturale proprio della della letteratura di genere sin dal Trecento soprattutto in un ambiente fiorentino non dovevano essere anche come dice eh lo stesso poeta eh lo scrivere in bernesco eh oscurutà non vuol dirne ne confusione praticamente e quindi fa questa eh enumerazione di queste eh tante specie di eh di frutti ehm che vengono coltivati nel pomario del giardino di cui penso ci parlerà eh Marco Mauvaz e che ne facevano uno dei dei giardini più importanti eh d'Europa ehm questa continua ehm diciamo interesse verso il mondo eh naturalistico dimostrata eh da eh Cesare Caporali nei suoi vari poemi eh ha lasciato un un come dire un una spia molto interessante eh nell'inventario post mortem di Ascanio della Cornia in quanto eh tra non molti quadri religiosi ne viene segnalato solo uno ma di grande interesse per per chi eh ha studiato la natura morte e si è occupato diciamo di natura morte di fine cinquecento primi seicento un quadro con fruttaruolo e frutti eh è un soggetto inedito eh in quanto eh erano molto più frequenti eh le scene di mercato eh diciamo alla alla Erzen o alle Boichelaer di cui vi faccio vedere un esemplare di Berlino eh ma per esempio il quadro con fruttarolo ed è qui la presenza della persona umana a a a come dire ad allertarci e frutti eh fa tornare alla memoria alcuni soggetti importanti che possono potrebbero essere il mondo a frutto appunto che Cesare Crispolti aveva ma anche un un soggetto come quello di Caravaggio alla Galleria Borghese e che fa capire in un certo senso la ricchezza di eh di questi eh elementi eh naturalistici che venivano ad essere assunti nella loro versione e soprattutto allegorica. Eh nei miei studi per esempio penso di essere riuscita a tracciare un quadro eh direi abbastanza convincente sul su questa frutta sul in particolare del mondo a frutto come un epigramma eh naturalistico eh che era al servizio di un messaggio pedagogico di un messaggio pedagogico legato all'esercizio della virtù eh che andava conquistata nel corso dell'educazione del giovane che era un soggetto particolarmente caro all'Accademia degli insensati che come abbiamo visto con Bonciario e con Crispolti dedicò questo a questo filone pedagogico una fortissima eh attenzione. Grazie Laura e a questo punto Marco prego. Questa delle reti di dimore effettivamente è un concetto fondamentale per interpretare le abitudini di questa elite dell'antichità anche fino ad oggi. Ehm per l'antichità è noto l'esempio di Cicerone che nel corso della vita aveva collezionato oltre 17 ville ed era questo comunque consideriamo un comportamento tutt'altro che eccezionale per il mondo romano. C'erano chiaramente più motivazioni quindi in epoca romana la proprietà fondiaria era uno dei pochi investimenti realizzabili e soprattutto era il solo ad essere collegato col concetto di nobiltà. Questo chiaramente è un è un atteggiamento che continuerà anche in epoca in epoca moderna. I nobili romani prestavano poi fondi molto diffusi nel territorio anche per diminuire all'epoca c'era questa questione insomma del rischio di esporre i raccolti e cambiamenti climatici insomma così di ottenere in ogni luogo il prodotto migliore. Eh infine anche per poter godere della bellezza dei singoli siti quindi c'erano ville in montagna in colline al mare e anche per essere certi di poter riposare sotto un proprio tetto durante le tappe di numerosi viaggi che appunto i nobili romani facevano. Cicerone si riteneva erede dei grandi filosofi e sosteneva fondamentalmente che i suoi giardini erano una citazione dei ginnasi greci e dei giardini mitologici. Questo collegamento con la metodologia è molto interessante eh soprattutto dal punto di vista di questo rapporto epistolare che ci fu tra Cicerone d'Attico che aveva realizzato nell'Epiro un giardino denominato Amalteion che era attraversato dall'acqua e ombreggiato dai platani. Chi si occupa di giardino eh rinascimentale manierista quando sente acqua e platani pensa tutta una serie di di giardini che ripropongono appunto questa sequenza che sono fondamentalmente anche ispirati alle lettere di Plinio. Ma la cosa intrigante insomma di questo rapporto epistolare è che Cicerone chiese ad Attico di inviargli tutta la letteratura posseduta ad Attico riguardo all'argomento. Perché? Perché pure lui voleva imitare questo santuario delle ninfe che avevano un frito giove. Questo è uno dei primissimi casi in cui c'è una precisa indicazione dei rapporti tra progettazione dei giardini e fonti scritte. Rapporti che sono la base di una nota citatissima definizione di giardino scritta da Argan che diceva la concezione del giardino si presenta quanto mai complessa per l'interferenza continua di altre poetiche figurative e letterarie. In effetti dall'antichità fino all'inizio del novecento i giardini avranno sempre, lo sappiamo, per distretti collegamenti sia con la letteratura come vedremo nel caso dei giardini della d'accordia sia con le arti maggiori. A partire, veniamo in epoca moderna dal quindicesimo secolo e con la diffusione, qua ho messo come esempio chiaramente Villa Medici a Fiesole, di questa nuova tipologia, nuova pericolettata, perché chiaramente è una riproposizione dell'antico insomma della della villa, le reti di dimori riacquistarono importanza per riaffermare lo status aristocratico. Hanno tirato le attenzioni di molti storici, ricordiamo i lavori di Lionello Pupi e di Margherita Zivisettini sulle ville venete, per la referentina parla insomma di persone, di amici, di conoscenti, insomma quindi i lavori di Zangheri, di Maria Chiara Corsana di Mariella Zoppi, sul versante del sud Italia, regno di Napoli, fondamentali, il labbro proprio ragionò moltissimo sulle reti di dimori dei baroni napoletani. Tutte queste varie tradizioni che per carità c'erano ed erano un po' sicuramente un po' diverse da paese a paese, da regione a regione, però si confrontavano in un luogo che era chiaramente alla corte romana. Luogo ideale in quanto monarchia, come si dice, monarchia teocratica elettiva, quindi il luogo ideale visti i cambiamenti di pontefici per la diffusione delle mode e soprattutto per la presenza di numerosissime corti cardinalizie. Dunque veniamo alla città del cosiddetto cardinale di Perugia come veniva chiamato Fulvio della Cornia, perché diciamo in ogni città c'era una sorta di tradizione su quale dovevano essere le proprietà tipiche di queste reti di dimore. Per l'aristocrazia del capoluogo Umbro, come per le altre realtà locali, era indispensabile possedere una serie di proprietà. Qual era il pacchetto di base per l'Umbria del Cinquecento? Un palazzo e una cappella di famiglia nella cosiddetta Acropoli, che è la parte della città di Perugia circondata dal muro etrusco e quindi la porzione della città più antica e la parte più prestigiosa. Nel contado era chiaramente poi una questione che riguardava il potere delle famiglie e non poteva mancare una villa contenuta annessa. A partire dal Seicento a questo pacchetto cinquecentesco si aggiunsero poi i cosiddetti casini di villeggiatura nelle immediate vicinanze della città, perché spesso le ville erano distanti e quindi difficilmente raggiungibili. I casini erano attorno alle mura cittadine, spesso con orti e giardini annessi. Piccola annotazione, poi dopo il 1717 si aggiunse, questa appunto era una caratteristica tipica di tutte le famiglie perugine, un indispensabile palco di famiglia nel cosiddetto teatro del Pavone, che è stato il primo teatro moderno realizzato in città. Col crescere delle ambizioni familiari cresceva anche il numero degli edifici. Nel territorio perugino e della Cornea possedevano timore nelle località che vedete qua in mappa, quindi a Perugia, Corciano, Pieve del Bescovo, la Villa del Colle, Bastia Cornia che era probabilmente la dimora originaria, Castiglion del Lago che poi vedremo dettagliatamente, Gioiella e Città della Pieve. Fuori dall'Umbria la città aveva affittato a Roma Palazzo Salviati alla Lungara, che aveva diversi vantaggi, tra cui il fatto di essere praticamente vicinissimo a San Pietro. Qua vediamo un'immagine del bel parterre di Palazzo Salviati in una mappa più recente, che è la nota mappa di Nolli del 1763. Ma la cosa molto interessante è che a Scagno della Cornea, quindi fratello di Fulgio, grande condottiero, aveva acquistato dai vitelli, con la salita al soglio pontificio dello zio Giulio III, un casino con vigna tra Porta Pinciana e Porta Salaria. Qua vediamo un'immagine a volo d'uccello di questa proprietà, insomma, oltre alle coltivazioni produttive, perché stiamo parlando di una vigna che non erano propriamente delle ville, ma erano, diciamo, delle proprietà attorno alle mura della città con destinazione più produttiva. Ma qua vediamo anche destinazione più ornamentale, c'era una corte con fontana che vedete al centro e sotto un giardino con aiole. Piccola parentesi, cosa rimane di questo giardino? È stato spazzato via, visto che l'area è il parcheggio dell'ambasciata statunitense. Si parlava di ambizioni familiari della Cornea, le dimostrarono con l'acquisto di un feudo, era il famoso commercio di feudi col Regno di Napoli, quindi acquistarono nel Regno di Napoli questo feudo dove ristrutturarono il Palazzo Marchesale. Nella mappa si nota, adesso non so se si vede, questo era probabilmente un piccolo giardino chiuso che i Marchesi della Cornea possedevano nel Regno di Napoli. Veniamo ai Giardini Perugini, partendo da Pieve del Vescovo. Pieve del Vescovo è una residenza vescovilla, cioè non era di proprietà della Cornea, ma in quanto Fulvio era il Vescovo della città, ebbe la possibilità di farlo ristrutturare quasi sicuramente del Galeazzo Alessi, che possiamo considerare sicuramente l'architetto di famiglia, con un interessante giardino pensile davanti all'ingresso principale, molto intrigante soprattutto per la presenza di finestre che si aprono sul paesaggio, che sono una costante nell'opera di Galeazzo Alessi. Il giardino venne sommariamente citato dal letterato di cui ha parlato anche Laura, vale a dire Cesare Caporali, è uno dei tanti carneadi della letteratura italiana, nato a Panicara nel 1531, è stato un poeta satirico di stampo bernesco. Devo dirlo, le sue opere non sono dei capolavori dimenticati, ma rimangono fondamentali, vedremo come e quanto, per avere notizie appunto sui giardini della Cornea. Aveva trascorso cinque anni a Roma dal 60 al 65 alle indipendenze del cartinale Fulvio, in seguito passò al servizio di Fardinando de' Medici, che come sappiamo diventò, rinunciò alla porpora dopo la morte del fratello di Francesco I per diventare Granduca di Toscana, e proprio alla Corte Medicea Caporali cominciò a comporre l'opera satirica denominata La Corte, di cui ha già parlato Laura, che divertì tra l'altro molto il futuro Granduca di Toscana. L'opera era un pungente ritratto delle miserie della Roma cortigiana, il cardinale Fulvio viene appena descritto come irascibile, tirchio, sprezzante, abbastanza insopportabile, il povero Caporali sperava di frequentare una corte di artisti illetterati, il riferimento era sempre alla tradizione di Lorenzo de' Medici, ma purtroppo non era così, si trovò a dover badare nella vigna che abbiamo visto poc'anzi, della Cornea, a 22 montoni castrati, quindi fondamentalmente il suo ruolo era quello di fare il pastore, e dice entra in tale dimestichezza, anche per poi per trovare soddisfazione letteraria, e li battezzò Ovidio, Omero, Orazio, Virgilio, perché ormai aveva una tale familiarità che li riconosceva uno ad uno. D'estate la corte corniesca si trasferiva a Pieve del Vescovo e da pastore il povero Caporali fu trasformato in giardiniere, però un giardiniere che era costretto appunto a portare l'acqua alle piante, questo è un brano della corte, dice quando mandò mi la peschiera, la guisa disse Marco alle coppelle perché l'acqua portasse a queste e quelle piante che in trenta corsi appena avea annaffiato le mortelle, vale a dire i bossi delle aiole. Non distante da Pieve del Vescovo, l'ha ricordata Laura, c'era il Fulvio, aveva, il Cardinale Fulvio aveva cominciato ad edificare la più importante villa mai realizzata in Umbria, vale a dire il Colle del Cardinale, che è l'unica villa diciamo che può confrontarsi a tu per tu tranquillamente con le analoghe realizzazioni laziali e toscane. Accanto all'ingresso fu posta questa lapide datata a 1575, scritta da un altro letterato che ha ricordato Laura, è molto legato e della cornea, Marcantonio Bonciario o Bonciari, e Bonciari descrisse il complesso con i consueti termini mitologici, ma sostanzialmente agresti, cioè non c'è, manca una cosa fondamentale nel primo giardino di Fulvio, un giardino paragonabile alle realizzazioni toscane e fiorentine. Questo è un punto di vista che si ritrovava anche nell'antichità, cioè fin dove spingersi nel puntare solo sulle parti ornamentali e sulle parti produttive. Fulvio probabilmente per via della sua tirchieria era più legato appunto a questa visione, che ritroviamo tra l'altro anche in Poggio a Caiano, questa visione più antica della villa romana. Un giardino effettivamente c'era, lo vedete in questo ingrandimento di questa bella lunetta, si trattava di un pomario, cinto da mura, quindi ancora di tradizione ortus conclusus, scollegato dalla villa e insieme al terrazzamento su cui la villa stava, diciamo costituiva l'unica sistemazione verdi dei tempi di Fulvio, di Fulvio della Corne, del cardinale. Tascano e Fulvio morirono rispettivamente nel 1571 e nel 1583 e avevano entrambi adottato il nipote Diomede, non avendo figli, avevano adottato questo Diomede della Penna della Corne assicurando la successione del piccolo Marchesato e alla fine dei suoi giorni anche Ducato, che sarebbe durato fino al 1647. Come capitale, lo ricordava Laura, venne scelta la piccola cittadina di Castiglione del Lago, che sicuramente cambiò totalmente, diciamo, aspetto grazie alla presenza della corte corniesca e nel 1563 cominciò, più che costruzione si dovrebbe parlare effettivamente di ristrutturazione, perché della Cornea cominciarono a lavorare su una preesistenza baglionesca, comunque la costruzione di quella che poi sarebbe diventata la regia di famiglia e sicuramente, se devo far fede agli inventari, il palazzo più importante, la dimora più importante della Cornea. Anche Diomede, oltre ad Ascanio I, lavorò alla sistemazione delle dimore corniesche, ma da un punto di vista giardiniero, quindi che è quello che più ci interessa, sicuramente la figura più interessante rimane quella del figlio, Ascanio II della Cornea, tra l'altro principe dell'Accademia degli Insensati, che resse il marchesato per dieci anni, dal 1596 al 1606. Quando scrivono la sua biografia parlano soprattutto dei suoi interessi per le scienze naturali, se così possiamo chiamarle, anche per l'astrologia. È un approccio tipicamente alchimista che Ascanio II condivideva fondamentalmente con tutti i regnanti dell'epoca, ma che appunto da un punto di vista del giardino sicuramente ha grande interesse. Nel frattempo Cesare Caporali era tornato a Perugia, dopo essere stato a servizio del Cardinale Acquaviva, venne contattato ad Ascanio II, insomma, quindi dal giovane della Cornea, tramite il segretario che era Scipione Tolomei per farsi raggiungere la villa del Colle del Cardinale. Scrive Tolomei per Ascanio a Caporali, dice, è la da venire in villa per gusto proprio e per consolazione di questo signore. Non sarà servente, ma servita, non cortigiano, ma corteggiata. Avrà tutte le comodità desiderabili mentre ci starà. Qua chiaramente c'era quasi un appunto fatto al poemetto La Corte, in cui Caporali ha preso in giro il Cardinale Fulvio, quindi per qua dicono non sarà servente, ma servita. Alla fine Caporali raggiunge una villa che comincia ad avere anche più interesse da un punto di vista giardiniero, perché quasi sicuramente il parterre che poi vediamo nelle antiche mappe catastali, qua vediamo appunto il terrazzamento per il Colle del Cardinale al centro e un bel parterre all'italiana accanto, fu realizzato da Ascanio II della Cornia. Per Ascanio Caporali compose poi, ne ha già parlato Laura, la migliore descrizione di un giardino umbro del Cinquecento, gli orti di Mecenati, dove venivano illustrati appunto i giardini del Palazzo di Castiglione. Allora, già Scipione Tolomei gli aveva descritti questi giardini molto brevemente, dice sono tre giardini vaghi con tutte le sorte di frutti rare e singolari, con spalliere di arance e di cedri, con tre mezzi di lauree e di mortelle ben distinti che fanno di bellissima vista i viali sempre verdeggianti, per lo più fioriti. In questa immagine più tardi possiamo farci un'idea della disposizione, vediamo in arancione ad elle il Palazzo Marchionale. Accanto, se vedete, il parterre è similissimo a quello del Colle Cardinale e di fronte c'erano queste due corti che evidentemente avevano anche loro un utilizzo come aree verdi, insomma, come giardini. Caporale descrisse queste varie aiole, questa aiole è già stata ricordata da Laura, quindi ce n'erano altre a forma di grotteschi, questo è intrigante chiaramente per i rapporti con gli interni, quindi c'era questo grande apparato decorativo, insomma, con decorazioni a grottesche, queste cose venivano riprodotte anche a fiori. Fioroni, labirinti e c'era poi appunto questa particolarissima iola di Maggiorana rappresentante della battaglia di Azzo con Augusto contro Antonio e Cropatra. È est contro ovest, no? Diciamo, quindi è l'Occidente contro il vicino Oriente che è poi la riproposizione, come diceva Laura, fondamentalmente della battaglia di lei tanto vista attraverso Azzo. Scrive Caporale, il giardiniere tutta l'istoria vi aveva formato con Mirabilate guidando in modo le lunghe ramette della Maggiorana. Passa a descrivere le piante da frutto, abbiamo visto appunto le cultive a pipero che erano un classico, lo saranno anche per tutto il Seicento, dell'orticoltura dell'Elite disposto a filtirato. Filtirato è chiaramente una cosa molto interessante perché ci fa capire quanto queste coltivazioni produttive fossero interpretate anche in senso ornamentale. Non c'è bisogno di ricordare che buona parte delle ville medici avessero appunto nei peri nani una componente fondamentale. E dice che queste piante a filtirato rendevano il verziere, cioè il giardino, un paradiso terrestre ornato. E probabilmente proprio sotto le piante da frutto erano coltivate le piante medicinali come la mandragora, il solatro, la dafne, la betonica che veniva considerata un po' una panacea universale, l'issopo e la borragine. Allora la cosa intrigante è che alle piante spontanee che abbiamo descritto finora si stavano affiancando in quegli anni, cioè tra le fine del 5 e gli inizi del 6 anche nuove piante esotiche raccolte nel Mediterraneo orientale. Famosissima fu la missione a Creta di Giuseppe Casabona che è stato uno dei grandissimi botanici del 500, non solo fiorentino ma europeo e missione finanziata nel 1590 da Ferdinando che era diventato ormai appunto il granduca di Toscana. Ma Scania, a seconda, e questa è la cosa più intrigante, considerando il chilometraggio insomma, cioè la distanza dall'Italia a Creta e alle piante invece raccolte da Scania si spinse al doppio della distanza perché collezionò piante dalla Siria, dall'Arabia e dal Mar Rosso. La cosa più intrigante, vedete qua dice erbe infinite poi da varie bande del mondo si vedevano qui fresche e vive recate con gran studio, spesa grande. La cosa che più mi sconvolge è che dice con le terre loro native. Allora evidentemente si erano resi conto che i substrati di coltivazione avevano una grande importanza proprio per la coltivazione delle piante. Questa è una cosa che troviamo in giardini recentissimi nella storia della botanica perché è soltanto alla metà dell'Ottocento che venne inventata la cassetta di Varde che era una cassetta che consentiva le spedizioni continentali, transcontinentali. Qua sembra un unicum, sicuramente è un aspetto intrigantissimo il fatto che aveva speso tanto appunto per far arrivare queste piante. Le piante collezionate dai medici della Conia rientravano nel noto filone di riscoperta della botanica di Dioscoride, quindi derivante da un interesse per la scienza antica. Ma i nuovi mondi premevano ormai le porte. Nell'inventario compilato alla morte di Scannio II emergono i primi campioni provenienti dalle Indie orientali e occidentali. Nel parazzo romano era presente una canna d'India con punte d'argento, tre scudille e una catenella di porcellana con boccale, quindi chiaramente cinesi. Al collo del Cardinale erano presenti due canne d'India e a Castiglione una canna d'India Qua vedete una canna d'India che si è miracolosamente conservata, sta a Torgiano ed è una delle pochissime, pochissime, non ne ho trovate altre ancora esistenti. La cosa più intrigante è che lo vedete, questa poi tra l'altro la canna d'India di Torgiano era di un principe ruffo e venivano ordinate queste canne d'India con specifiche precise, compreso gli stemmi di famiglia, ad una manifattura distante migliaia di chilometri, in questo caso a Goa. Quindi evidentemente c'erano dei contatti internazionali sia per reperire le piante dal Mar Rosso sia per queste noci d'India e canne d'India ma soprattutto per le canne perché venivano, ripeto, realizzate con delle specifiche proprio per la realizzazione e venivano, appunto, sicuramente c'era bisogno di contatti internazionali con l'impero ottomano nel mezzo tra l'altro, quindi non doveva essere assolutamente facile. Rimane chiaramente il grande rammarico per la perdita dell'archipede della Cornia che aveva potuto, da un punto di vista della corrispondenza, chiarire molti di questi aspetti più intriganti, cioè questi rapporti verso l'esterno così particolari, ma per fortuna, grazie, si dice sempre, le opere della cultura cortigiana non sono interessanti, ma guarda caso, qualche immagine di questi giardini ormai globalizzati è giunta fino ai giorni nostri grazie appunto a questa tanto vituperata cultura delle corti del Cinquecento. Grazie dell'attenzione. Io ringrazio moltissimo entrambi, sia Laura Teiza che Marco Mauvaz, per averci, così, messo a conoscenza di tutta questa serie di curiosità e anche per averci fatto toccare con mano come il giardino possa, anzi debba, molte volte anche essere considerato una sorta di specchio, direi proprio di bacino, di esemplificazioni allegorico-morali dalla valenza pedagogica, almeno per quanto riguarda alcune stagioni. Quindi grazie sinceramente e grazie per essere stati con noi e a questo punto buona estate a tutti. Salve.